oggi è sabato pepperone non devi svegliarmi così presto cosa vuoi ancora? leggi questo foglio e questo cos'è? concorso ippico si svolge questa domenica dimmi vuoi partecipare a questo concorso? sei sicuro? d'accordo puoi partecipare vuoi che legga questo? tutti i cavalli devono partecipare con un fantino vuoi che sia il tuo fantino? però io oggi volevo suonare la chitarra ma sì dai andiamo ad allenarci dunque qui nel regolamento c'è scritto che una delle gare sarà il volteggio ah ho capito forza pepperone possiamo andare più veloci? stai attento zenon non essere così fiducioso non preoccuparti amico mio e tu devi galoppare più veloce se vuoi vincere ho avuto una grande idea posso allenarlo e suonare la mia chitarra ah secondo me è scordata forse ora si è accordata pepperone vuoi vincere la gara? allora dovrai saltare attraverso gli ostacoli che ho piazzato per te voi altri non muovetevi pepperone ha un tale portamento è così forte ed elegante ehi guardatemi anch'io posso saltare con un cavallo un martolito due martolito tre martolito penso che il cavallo di zenon sia molto stanco sei sicuro? io credo che stia bene sicuro di quello che dici? sì stancamente bene è ancora presto io sono molto stanco non ce la faremo mai a vincere la gara la gara di cavalli sta per iniziare che grande spettacolo ci sono degli affini pazzini attenzione il cavallo pepperone è entrato in gara il compattino zenon sembra addormentato questa competizione piena di sorprese forse zenon! e ora la gara finale iniziamo per loro che è successo? ho dormito così tanto pepperone dobbiamo andare alla gara e il vincitore è il cavallo pepperone passiamo un applauso al compattino zenon! è il giorno più felice della mia vita grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!